Un'analisi che parte dall'osservazione delle dinamiche del valore aggiunto. Nel 2012 il valore aggiunto a prezzi correnti della provincia di Lecce è sceso dell'1,1%, ben oltre il dato nazionale. Un tessuto imprenditoriale composto per il 70% da piccole imprese a soffrire ancora di più le difficoltà congiunturali con l'aumento di nuove partite IVA a rispecchiare le difficoltà dei giovani ad essere assunti con contratto di lavoro dipendente. L'aumento del 23,5% di disoccupati negli ultimi 4 anni è uno dei dati più allarmanti con un tasso nel 2012 di disoccupazione pari al 18,3% con un trend a riguardare soprattutto i giovani. Bloccato il commercio estero, i dati del primo trimestre del 2013 registrano un calo del 17,1% delle esportazioni, ben al di sotto della media regionale. Le aziende non chiedono più prestiti alle banche per via dei tassi di interesse che nel Salento continuano a salire, risultando più elevati rispetto alla media nazionale di quasi due punti percentuali, sfiorando il 10%. Bisogna che ora si lavori veramente tutti quanti in sinergia, tutti di squadra per vedere ed indirizzare l'economia salentina verso quei comparti che in questo momento forse sono quelli che soffrono di meno e che le stesse aziende ci indicano come comparti di un futuro di sviluppo economico cioè il turismo e l'agroalimentare.